...ci come tutti gli altri qui... Ragazzi! Senti qui? Non siete qui perché vediamo soltanto... ...va bene, va bene, d'accordo... ...alcuni di voi pensano che noi con questo posto non c'entriamo niente... ...ma che diavolo vuole fare da dove veniamo? Va bene, va bene, va bene, va bene... ...voglio solo dire una cosa... ...The Streets dovrebbe essere un raduno di tante persone diverse... ...la chiamiamo battaglia ma per che cosa stiamo combattendo? Siamo tutti qui per fare la stessa cosa, ballare! Giusto! The Streets una volta non voleva dire soltanto potere sul territorio... ...ma portare qualcosa di nuovo sulla strada! E non è importante come siamo vestiti, a quale scuola andiamo... ...o da quale parte proveniamo perché la cosa migliore del The Streets... ...è che non conta quello che noi abbiamo... ...conta l'uso che ognuno di noi ne fa! Quindi, se la 4-1-0 non vuole accettare la nostra sfida qui dentro... ...che cavolo, vuol dire che andremo a ballare di fuori dove The Streets è iniziato! Andiamo, ragazzi! Andiamo! 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 Andiamo... Oh! Vai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.